Buongiorno a tutti! Buongiorno da Dubai! Sono qua con Danian! Ciao a tutti! Bene ragazzi, siamo troppo felici, voi siete già tantissimi, mi hanno detto Stefi, non fare la Zoom il sabato sera, perché il sabato poi gli italiani escono, si vanno a divertire, escono a cena, quindi abbiamo detto, però non possiamo aspettare fino a lunedì, perché è iniziata questa promo pazzesca e vogliamo condividere con voi un po' di cose. Intanto volevo dirvi che è stato stupendo, l'Expo è stato un grande evento, il mese passato è stato un mese fenomenale, tanti di voi con il fatto che hanno preso la double up e quindi hanno iscritto un sacco di persone nuove e hanno preso, non so se avete visto sulle stories di Instagram, ci sono stati i primi cinque premi, ma non abbiamo potuto nominare tutti, ma in realtà un sacco di persone il mese scorso grazie a questa promo hanno dimostrato che volere è potere, che le persone sono uscite, hanno preso coraggio, hanno iniziato a iscrivere persone nuove, hanno veramente guadagnato non solo nel FOB, nel First Order Bonus, nell'ordine dell'appunto, nelle iscrizioni, ma poi è chiaro che quando iscrivi persone, a loro volta, al loro team ha fatto lo stesso e quindi grande mese, abbiamo avuto persone che di solito guadagno dai 4-5 mila dollari al mese che ne hanno guadagnati 23, cioè tanto per farvi capire che mese è stato, tanto vero che vi devo dire il record di tutto di sempre, Unity Global Mondiale è stato il mese più forte della storia nostra, il che vuol dire anche uno dei mesi più forti per un sacco di persone qui presenti. E ricordiamoci che noi vediamo i numeri, vediamo i paesi, logicamente scusami amore, ma abbiamo di nuovo stravinto Italia numeri 1, yes, sempre, ma proprio, ragazzi, ma neanche avvicinarsi, cioè ma neanche, proprio siamo i migliori, però vi devo dire che ho visto poi anche i fatturati degli altri gruppi italiani e vi devo dire che l'Italia sta crescendo anche grazie agli altri, quindi diamoci da fare, a me piace vedere comunque il successo di tutti, però diamoci da fare sempre di più perché sta arrivando una bella, bella leadership in Italia. Comunque mi sono scritta dei numeri e vi volevo dire che solo l'ultimo giorno del mese passato in Genes sono entrate, grazie appunto a questa promo dove tutti hanno spinto fino alla fine, 48.000 distributori in un giorno, non in Unity Global, eh, in Genes, però pazzesco, no? Questa è una cosa incredibile. Quindi il 31 di ottobre sono entrati 48.000 persone. Questo è wow, wow, top. So che anche molti di voi hanno portato ospiti all'Expo, che li hanno lavorati, hanno fatto il follow-up e che si sono iscritti. So che molti di voi hanno anche usato la tecnica nel dire, guarda, se entri adesso ti do indietro metà del mio bonus, non importa quello che è stato fatto, ma sono certa che, ho visto che nella matematica hanno un'opinione che i risultati sono stati pazzeschi. Adesso sto dittorato, lo faccio parlare a lui, lo traduco e spero di fare del mio meglio. Sorry. So, yeah, 48.000 distributori in one day, that was record in Genes, but in fact was only second best day, because the best day was when we got the Egyptian team on board. We had 600.000 one day. Just saying, just saying. Dice Daniel che sì, è stato un record per Genes, 48.000 persone, però in realtà quando Daniel ha portato dentro tutto quel gruppo egiziano, sono entrati 68.000? 600.000. 600.000. Vabbè, quelle sono quelle cose. Anyways, guys, we had a record month, as she said, it's unbelievable what's happening at the moment. Also, we had more than a million dollars in sales in Germany. We had, as always, much more than a million dollars in sales in Italy. And that's just two countries. Unity Global overall is rocking. We got so many new ranks. Sì, abbiamo avuto veramente appunto il mese più forte in assoluto. La Germania, sono stati anche loro molto bravi, hanno fatto più di un milione di dollari in vendita. Vabbè, l'Italia molto di più. Poi, chi non vuole che parlo di numeri così, però abbiamo veramente, veramente spaccato anche in Italia e poi in tutti gli altri paesi. Siamo ormai presenti in 118 paesi. in tutti gli altri paesi. Tra cui, devo dirvi, anche Dubai e i paesi arabi. Yeah. Anyways, guys, there is less than eight weeks to go until 2020. Eight weeks to go until the future is here. Wow, è sempre impossibile che Natale è già vicino perché mancano solo otto settimane fino alla fine. Veramente, non mi sembra possibile. Mamma mia, questa è una... November, December, done. Wake up call, right? Cavolo, è vero. November, dicembre. Isn't it what we wanted, like, big dreams in 2020? I think if you're not on the way right now, and we are as a whole, but if you're not with your team, now it's time to run. Danny dice, quindi, sognare in grande, vedere in grande, se non sei e entrare nel 2020 alla grande, bisogna veramente focalizzarsi adesso perché mancano solo otto settimane. And the timing is perfect because Jeunesse helps us to really go into crazy momentum because Jeunesse is trying to close another billion dollar year despite having a few challenges in China, uh, regulatory challenges, um, they are really throwing everything at us in order to make this happen and it's the easiest time ever. You talk too much. Okay. Coming from Italian. Parla un sacco, poi non... Okay, dici, sei un'italiana che dice che parlo troppo, ho capito, però, cioè, la tradurre non è facile, poi mi dimentico le cose, mi devo focalizzare, No, no, qualcosa mi ricordo. Allora, dici qualcosa, sì, qualcosa. Parla? Fa ridere quando parla italiano. Comunque, allora, ha detto, aspettate che non concentrare, no, aiutami. La Cina dice, insomma, ah, che l'azienda ci sta veramente aiutando in questi ultimi mesi, come avete visto con il Double Up, come avete visto con questa promo che vogliamo condividere con voi tra poco, tantissimo, perché l'azienda ha avuto dei problemi con l'Asia, non in realtà l'azienda, ma in realtà il network marketing, dove hanno avuto un blocco, dove non si poteva più fare network, sapete che già per l'80% dei volumi vengono dall'Asia, quindi, visto che vogliono anche quest'anno raggiungere il miliardo di dollari in vendita, stanno facendo un sacco di push, di aiuti per promuovere, per incentivarci a diventare sempre, a fare sempre più volumi e quindi è un'ottima cosa per noi. Tanto è vero che questo mese abbiamo una promo fenomenale, anche questo mese. Esattamente, ci sono tante promo, quindi prendete carta e penna e focalizzatevi, perché la cosa peggiore è non conoscere le promo e non farle, quindi perdere un'opportunità del genere. E intanto, senza andare a parlare adesso del nuovo promo, ma già quello che abbiamo, e pensate che questo pacchetto che ci dà il four store bonus di 400 dollari, Danny era stato chiesto in Italia, l'abbiamo avuto in Italia, Danny quando ha visto questo pacchetto in Italia l'ha richiesto per la Germania e è incredibile, quindi già con questo, questa è già una promo in sé, questo tipo, questo pacchetto. Mi piace perché, you know, so many people are saying, oh, it's hard to make money in network marketing and all I want to make is $400 or $500 or $800 or $1,000, it's so easy with the ShareGenest and Fly, like all you do, I mean, guys, you have a basic pack that pays $100, hello, that's insane, even without promotion. Alla gente che dice, ah, voglio guadagnare almeno $400, $500, $1,000 al mese, ma non riesco. Abbiamo solo il pacchetto basico, ti dà $100. Yeah. ShareGenest, Fly, si chiama così il pacchetto, ShareGenest, Fly. ShareGenest and Fly. Yeah, I love them, I love these packs just because it's a really easy way to make money as you're building your team and of course you have to build your team, you know, if your organization is not as big as you want it, you need to sponsor. And I think all of us have a responsibility towards the end of the year now to really up our sponsorship and the reason also why I sponsored so many people last month wasn't for me but was for everyone to see what's possible because I wanted everyone to see what you can do if you open your mind and honestly I did that part-time, I didn't even really focus on it. You talk too much today, what's wrong with you? I cannot translate all of this. Okay, so Daniel ha detto che comunque non ci sono scuse. se è importante arrivare alla fine dell'anno con iscrizioni nuove, con nuove persone per far crescere la propria rete, ma intanto che si fa crescere la rete e si crea una duplicazione, grazie a questi pacchetti si può già arrivare a guadagnare. E il fatto che Daniel ha fatto questa, diciamo, questa championship con alcune persone che si sono volute unire a lui per vedere chi iscrive più persone e ha guadagnato 9 mila e rotti dollari perché ha iscritto 18, scusate, persone il mese passato, era non tanto perché doveva guadagnare questi soldi ma era per dimostrare che se uno si focalizza su questa cosa è possibile. E voi potreste dire, ah vabbè ma è facile, tu sei Daniel in Fire, vi posso garantire che io da moglie ero di fianco a lui e Daniel ha iscritto persone che non hanno la più palide idea a chi sia lui. Non è che erano gente che l'aveva solo contattato dicendo mi voglio iscrivere, no, è andato proprio a richiamare persone che magari aveva iscritto tempo fa, che avevano smesso, li hanno svegliati, gli ha fatto riprendere l'upgrade del pacchetto. Sponsored people from the wedding of my sister, like, our new family people. Ha iscritto persone, perché si è sposata la sorella, ha creato contatti nuovi al matrimonio, ha iscritto persone del matrimonio della sorella che non hanno la più palidea cosa sia nel top marketing con l'ambassador. Quindi l'ho visto fare, direi che su 18 almeno 10 erano contatti fatti come uno parte domani e deve incominciare a sponsorizzare, cioè a creare... Look, I love how Eric Worri says, you need to now recruit the class of 2020. So if you want a strong team to start in 2020, you need to recruit them now in the next eight weeks. Eric Worri dice che dovete recrutare adesso la classe del 2020. In che senso? Se adesso inserite il vostro team nuovo, le persone nuove, saranno le persone che poi faranno la differenza insieme anche a chi già per il 2020. Sappiamo che la gente all'inizio deve riscaldare i motori. Quindi questa è una grande opportunità di poter arrivare a fine anno così. So a big recognition for Omar, because he was the number one enrolled in Italy last month. Quindi grande Omar De Tommaso, perché comunque ha inscritto, è arrivato, è il numero uno italiano perché persone che ha scritto più personalmente. Yeah. And I want to... 3,500. Yeah, 3,500. And I want to... Look, I want to ask something really honest to Omar, maybe he can just answer in the chat. Did you do more because I challenged you and because I said let's make it competition? Did you do more than you would have done without that? Se non c'è? No, mi ha appena detto che non si sentiva il suono all'inizio, quindi c'è. Sta scrivendo. Did you ask him? In Italian? Sì, te lo schietto, no? Omar, la domanda è per te. Hai fatto di più perché eri in competizione con Danny? Omar e I, we were talking, we were like, let's do a competition, just the two of us. And all I want to know, and he says yes, exactly. Sì, ha fatto di più. Look, and guys, there's something to learn here, okay? C'è qualcosa da imparare. If you do, there is a lot of different things that motivate people. Some people are motivated by competition. For example, me and Stefania and Omar. Omar dice, I love competition. Ah, me le sfide. And then other people are motivated by recognition. Altre persone sono motivate da riconoscimento. And then other people are motivated by money. Altre persone sono motivate dal denaro. And then other people are motivated by travel. Altre perché sono motivate per i viaggi. And other people are motivated by because we are all doing it, like a community movement. E molte persone sono motivate per la comunità perché tutti insieme lo facciamo. So the reason why I tell you that is you need to use these promotional tools inside your organization to build your team and you can never think that everything applies to everyone. Esattamente. E Danny ci sta dicendo questo perché questi strumenti, queste ragioni le dovete utilizzare dentro la vostra rete perché non dovete pensare che tutti la pensiamo, tutti siamo uguali. Quindi a seconda di quale sono la leva che porta le persone a focalizzarsi, a lavorare di più, lo devi fare. Io ad esempio sono una super competitiva e una delle ragioni, perché ad esempio era la più brava della classe, non era perché mi piaceva studiare ma perché volevo essere la più brava. E per me è stata una leva per assurdo, quando ero ancora uno zaffero elite, di diventare, di fare la corsa dei 90 giorni e passare a smeraldo, io non ho mai fatto rubino, ho saltato proprio questo passaggio, perché in realtà c'era una persona che era come me, ai tempi c'era solo zaffero, eravamo due gatti, e a un certo punto lui ha fatto il salto elite e ha detto no, 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 non ci siamo, non era l'ultima, anch'io, cioè non esiste che questo sia. E per me è stata una leva importante, come lo è stato ad esempio per Omar, a me i soldi servivano, ma il riconoscimento anche nel mio caso era importante. Lui, che era un rubino con volumi da doppio diamante, io stavo male perché aveva i rami completamente squilibrati, e io dicevo, ma Daniel, ma porca porca, non ti dà fastidio che fai molti più volumi, PGV, che magari quel diamante sul palco che se la tira un sacco e tu che sei qua a Rubino non ti hanno neanche il permesso di parlare, perché ai tempi i rubini non potevano andare sul palco, sapete cosa mi ha risposto lì? No, no, ma a me l'importante è guadagnare, io so che guadagno molto più di lui, quindi è vero, magari non è i chicchi, ma di matchy, quindi non me ne frega niente. Vedete, cioè, ognuno è diverso, se voi utilizzate questi strumenti per far crescere il vostro team e aiutare a capire cosa hanno bisogno le persone, sarà un risultato. Promo, ricordate che abbiamo ancora una settimana intera per chi ha comprato i pacchetti all'Expo, comunque, che può ancora comprare, ci sono ancora pacchetti che comunque ti danno la possibilità di guadagnare il doppio dei punti per il travel, poi per andare a Cabo, Messico, posto stupendo, sono andata a vedere il mare, sembra le Maldive, un posto bellissimo. In fact, I have a video, let's show the video for Cabo. Ma ho un secondo, però, let me finish. E Dandian dice che fino al 9, per chi ha questi pacchetti o compra questi pacchetti, potete addirittura avere un vantaggio che si raddoppiano i travel points. Quindi, o raddoppiano il 40% in più, come sono i pacchetti? Il big one double, il small one 40%. Esatto, esatto. O il doppio o il 40% in più. Comunque, pensate che per andare per alcune persone, veramente, basterebbe iscrivere, facendo i conti, 5 ambassador col double up e siete già qualificati. Tanto è vero che abbiamo già tante persone che si sono qualificate e non sono solo i rubini, i direttori, che le persone possono dire, vabbè, dai, e loro sono già forti. No, noi abbiamo avuto persone a Bali executive qualificati. Questa è una promo che noi, dubbiamente, dobbiamo lavorare per ottenere. Non è che vincono solo i forti. Se tu sponsorizzi persone nuove, vai. Se no, non vai. Non c'entra niente i grandi volumi. E questo a me piace perché ci rende tutti uguali, tutti uguali. Adesso vi facciamo vedere quanto bello è questo posto. All right, so I'll show the video? Yeah. Okay. All right, one second. Here we go. All right. All right. All right. All right. grande 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 genet so this is Cabo for next year and now it's time to qualify and to get a head start also by when you buy the pack you get a lot of travel points instantly with the pack si anche quando usate questo è Cabo per l'anno prossimo e anche se comprate il pacchetto ci sono già punti per qualificarsi comunque poi se invece non hai comprato il pacchetto non hai il double up c'è comunque tempo fino alla fine di gennaio per qualificarsi in maniera normale io ho vinto viaggi senza mai fare il double up all'inizio quando non potevo permettere il pacchetto ma lavorando e scrivendo più persone mi sono qualificata vi dico l'importanza di venire in questa vacanza a parte avete visto il mare che bello che è tantissimo è creare relazioni relazioni con persone del team relazioni con gli up line io stessa che spesso e volentieri quando vengo d'Italia non ho tempo di respirare ho avuto veramente il piacere di conoscere tanti di voi grazie alle vacanze grazie al viaggio che si fa in pulma insieme grazie a stare in spiaggia abbiamo formazioni in spiaggia mentre eravamo su Lettini adesso a Bali abbiamo fatto un sacco di formazioni un sacco di meetings un sacco di meeting un sacco di... ormai siamo viziati l'avete visto? non sembra lui a volte però ogni tanto è un po' viziato tutti si lamentavano che non faceva Instagram poi lui come fa le cose da poi esaggia da un'altra parte però vabbè comunque adesso c'è gli i followers prima non c'aveva neanche 10.000 per promuovere il libro quindi meno male però in questo periodo continuo a filmare filmando sopporto comunque tornando a noi loro mi amano perché io fanno così dico quello che penso però tornando a noi altra cosa grazie ai social media abbiamo la possibilità di dire grazie Genes qui a cavo in spiaggia con gli amici fare le stories e la gente che aveva detto di no che comunque osserva tutto quello che fate diranno beh guarda quella là che si è messa a fare quelle cose lì piramidali quelle cose lì catene non so che ah interessante però in vacanza ma io ho avuto persone che mi hanno detto di no che dopo tre anni che mi vedevano tra un posto e l'altro un posto più bello dell'altro mondo mi hanno chiamato e mi hanno detto sai forse Stefania che è arrivato il mio momento quindi anche su questa cosa vi aiuterà a iscrivere persone persone verranno attratte dal lifestyle più conoscerete meglio corporates conoscerete meglio le persone di di Genes che anche lì magari vedete un evento come Expo che non riuscite neanche arrivare perché l'evento è enorme e non riuscite a fare due chiacchiere con Kyle Copeland e tante altre cose ricordi bello bello viaggiare e vedere il mondo secondo me è straimportante e la vacanza quando è gratis te la godi molto di più questo è una cosa importante nulla è importante se tu non lo fai importante ricordatevi che questa vittoria delle vacanze si può pianificare ricordatevi che quando iscrivete una persona i travel points arrivano anche a voi non fate succedere vediamo se sono fortunato no io ho persone che proprio hanno messo scritto la strategia più veloce per arrivare ad avere una vacanza pagata che comunque vi posso garantire io che ero un po' preoccupata magari vedevo il video in pullman con la bandierina e smetto che a volte mi sento ancora un po' snob sono così e dicevo no vabbè ma queste vacanze di terzo mondo tipo colonia non ci penso nemmeno vi posso garantire che a mia sorpresa quando sono andata alle vacanze rimanevo scioccata dalle stanze dal cibo dalle feste a Bali hanno fatto delle feste stupende Bali hanno speso un sacco l'albergo è nuovo di zecca nuovo 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 quindi il mare è bellissimo è tutto incluso veramente vale la pena vale la pena yes so now so the travel promo so how do you earn travel points the pack yes but the other thing is as you sponsor so just as you go ahead and sponsor you make travel points and what I love again about the share GNS and flypacks even though they give you higher first order bonus they didn't reduce the travel points so you still get full travel points on them so 25 travel points on every ambassador quindi come ci si qualifica sponsorizzando persone nuove ma ad esempio il fly non mi vedo mai il nome fly share GNS and fly e il pacchetto anche se ci dà più soldi sull'iscrizione non hanno abbastato i travel points quindi quando iscrivi una persona con questo pacchetto prendi anche 25 travel points tanta tanta roba yes so now the other thing GNS launched a brand new promotion that started yesterday which is called lead to success cosa importante GNS ieri ha lanciato una nuova promo che si chiama lead to success guida successo verso successo and the reason why I love this promo the reason why I love this promo is because anyone everyone all of us well not me but all of everyone else eccetto noi really everybody else ok almost everyone can make more money and really whether you are just started whether you are enrolled yesterday or whether you are an emerald in the business you can make more money so what is it you have to look you have to understand what is your base rank ok prima cosa devi cosa devi guardare guarda il tuo rank di base cioè il rank col quale sei stato pagato il mese scorso tu puoi essere anche un rubino ma se hai fatto lo zaffero 50 non devi guardare il rank del rubino ma devi guardare lo zaffero 50 se hai fatto elite guarda l'elite non al rank al quale sei arrivato non mi viene l'italiano io ho la tastiera in inglese però è il rank d'arrivo è il rank che sei stato pagato il mese scorso ok now let's very specific ok the rank is cagate la cagate or whatever siamo live non devi parolacce pagate ci stanno chiamando aspetta un momento per fare live è così ragazzi live è così aspetta hello hi perché noi viviamo in questo momento in un alterco quindi ci chiamano dalla riflessione sorry i bambini 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 no hai sbagliato do you want to sign up with jeunesse scemo no no i'm joking so listen did you book a massage no no ho buccato non ho preso un massaggio no we have no massage book hanno sbagliato dai che siamo live poi la gente si stufa se mi vuole finire vado no but honestly we don't have we don't have a massage book really no i'm not mr torsten no problem grazie have a great day ha sbagliato stanza try some nico ha sbagliato casa e quindi ci ha ci ha chiesto se avevamo perché non stavamo eravamo faccio un massaggio life is hard when you live in a hotel la vita è dura la vita è dura quando vivi in un albergue vabbè no anyways so now listen ok look very very important she said your base rank is the month is the rank that you were paid as in october but i'm very sure many people don't understand what that means ok io ho detto che dovete guardare il rank al quale si è stato pagato ottobre e dice ma è sicuro che molte persone non capiscono nemmeno io che cosa vediamo vediamo bello che settembre è stato più debole di ottobre meno ancora so for example we have someone in germany for example valentina ok last month in october she qualified zaffer elite ok esempio ok allora è importante allora bisogna vedere i cicli di settembre yes so aspettate allora aspetta che hai ragione quindi io non avevo capito così quindi ad esempio valentina a settembre no a ottobre ha fatto zaffer elite but in september ma era settembre non era zaffer elite quindi può vincere la promo per fare soltanto lo zaffer elite now why is that perché è così sì perché quando you do for example like valentina zaffer elite in october then as per the system you are only paid as zaffer elite from 1st of november but it's the paid as rank from october which means it's your cycle from september ok ok tu l'hai capito no it's easy cycle from september tutto si basa sul ciclo che hai maturato settembre perché a novembre sei pagato per il settembre per il ottobre che però riferisce a very easy here's the here's the easy rule for you ok if in the month of september you had more than 25 cycles then that is your base rank quindi se nel mese di settembre hai fatto più di 25 cicli then whatever your cycle was that's your base rank so if it's 210 it's ruby if in september you had 30 it's zaffer 25 devi andare a vedere quanti cicli hai fatto a settembre quindi se hai fatto 210 cicli sei rubino se ne hai fatti 20 sei neanche zaffero quindi wait I said more than 25 so if you're more than 25 then it's september if it's less than 25 then it's october ok ok quindi se è più di 25 che devi guardare solo i cicli guardi i cicli di settembre se è meno dei 25 cicli allora devi guardare il tuo rank di ottobre perché? perché? perché tutti i ranci sotto il saffer 25 rinforzano immediatamente sul stesso giorno come se io ando jade ora sono jade oggi ma se io ando saffer 25 sono solo saffer 25 prima di prossimo giustissimo capisco benissimo perché perché sappiamo benissimo che gli altri rank vengono fatti senza i cicli quindi se tu da executive vai a perla perla lo diventi subito non devi aspettare che finisci il mese per vedere quanti cicli hai fatto quindi tutto ciò che è da zaffero 25 in giù in giù quindi se sei zaffero in giù in giù dovete vedere il mese di ottobre ricordatevi che la cosa bella di questa promo è che si può già guadagnare i rank più bassi e sono soldini veramente facciamo che qualcuno in settembre ha fatto giada ma in ottobre ha fatto perla perla è il tuo base rank è il tuo rank che devi guardare quindi devi fare zaffero per prendere il mese quindi se hai fatto più di 25 cycles guarda i cicli che hai fatto a settembre se hai fatto meno di 25 cicli guarda il rank che sei stato pagato in ottobre quindi tutti dovete capire cos'è il vostro base rank per prendere la promo tra poco ci sarà il report che andrà online e potrete vedere lì tutto quanto e vi farà vedere il vostro rank now how can you make money with the promotion all you have to do is achieve the next rank from your base rank quindi com'è che si fa soldi è prendere almeno il rank superiore al vostro rank basico and I love it because really let's say you have no rank you're just a distributor you go executive you make a hundred dollars extra che tu non hai zero rank fai l'esecutivo e in più ti vengono dati cento dollari or you go I don't know emerald and you make twelve thousand dollars extra fai smeraldo e ti becchi dodicimila dollari wow so you need to do two things number one achieve the next rank per arrivare al prossimo rank and achieve the volume that has to come with it e devi arrivare ad avere del volume insieme all'arrivo di quel rank per poter prendere il bonus ok there is a new rule that is amazing for all of us they made it easier now to qualify before there was a 30% rule ok don't confuse us before say the rule now ok so yeah so basically there is a 35% rule which means 35% of the volume needs to come from a separate leg quindi è chiaro che c'è un'altra regola che però il report ci farà vedere è che il volume deve venire almeno per il 35% da gruppi diversi quindi supponiamo che tu sei un rubino e hai quindi già due zaffari ma magari altre linee se hai solo una linea che ti fa fare 150 cicli che è il caso anche se hai i volumi per fare e magari sei stato pagato elite quindi se li fai di nuovo rubino prendi il rank del rubino attenzione perché se hai solo una linea che ti fa fare quei cicli non puoi riceverlo devi guardare la regola del 35% che comunque sarà chiara nel report forse lo potrete vedere nel report che by the way è una regola che Jeunesse sempre fa e anche per i very high ranks che sono facendo questo che è per cui ti dico che devi sponsorare tantissime persone come puoi ma è giusto è una regola che Jeunesse mette sempre anche per i rank più alti una cosa pazzesca ieri guardavo per il suo triplo diamante perché si è veramente avvicinato ma per assurdo se noi italiani facciamo anche molti più volumi per il suo triplo non conta perché già abbiamo raggiunto il massimo deve sponsorizzare più linee per quello che è importante non focalizzarsi solo su una linea se siete stati fortunati che magari dal lato hai spillover dall'altra parte hai inscrito uno che è bravissimo e fa tutto lui non potrai prendere tanti bonus e arrivare fino in alto ok so we have the cover promotion so we have the cover promotion going on act now so you can qualify and travel with us we also have lead to Jeunesse going on it's a two month promo so lead to Jeunesse lead to success so also make sure you qualify and discuss these things with your team capo capo i pacchetti le lead to success promo e parlatemi con il vostro team focalizzatevi ricordatemi che per fare i volumi avete due mesi per prendere questi bonus non un mese due mesi quindi non vi spaventate a volte non mi dicono ah voglio fare Zoffer Elite caspita ma quanto volume in un mese non ce la faccio no hai due mesi per accumulare questo in concludere I'm very proud of you and I'm very proud of this whole team I think that we have a big chance all together to do something significant if we all work hard and focus at the same time we can open a dramatic 2020 together and I think it's gonna be amazing quindi dice insieme potremmo fare ancora meglio e ci veramente crediamo che questo sia un mese ancora più grande per entrare poi nel 2020 alla totale esplosione that's it yeah bene anch'io ho detto tutto you don't have anything to say no per una volta no non ho niente da dire no no sono sono molto orgogliosa di voi non solo perché siamo sempre i numeri uno ma soprattutto anche a livello di team abbiamo veramente fatto un grande grande lavoro voglio salutare so che siamo tanto tutti occupati questa è stata registrata quindi per chi non ha potuto essere presente poi vi faremo avere lì un bacione ciao 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 bye bye